Tg Scuola in Forma, edizione speciale, piccoli e grandi poeti a scuola. Benvenuti amici del Tg Scuola in Forma. Forma? Norma? Forma? Sì, oggi parleremo di poesia. Allegria, bugia, pazzia, magia, malinconia. Chissà che doti deve avere un grande poeta, forse un'anima segreta. La poesia è ascoltare con il cuore, esprimere il proprio amore. Raccontare il sentimento, il proprio tormento, con talento. Di Giuseppe Ungaretti, eterno. Tra un fiore colto e l'altro donato, l'inesprimibile nulla. Di Giosuè Carducci. Premio Nobel per la letteratura nel 1906. San Martino. La nebbia agli articoli, piove ginando sale, e sotto il maestrale, urle e biancheggia il mare. Con la maestra, la scuola è una palestra per noi poeti in erba. Sentiamo Federica, che inventa poesie. Senza fatica, entra come una formica. Tristezza. Sento una brutta sensazione. È qualcosa che non mi piace. Mi sento giù. Sono stufa. Mi dispiace. Sono solo arrabbiata. E se parlate anche in lingua veneta, vi conosceranno in tutto il pianeta. Dim, don, campano. Le campane debolò. Le suonavano vie e notte. Le mutava sole e porte. Ma le porte leggera del ferro. Volta la carta che viene un capello. Sto il capello pieno di piove. Volta la carta che viene una rosa. E sta rosa sta da buon. Volta la carta che viene un limon. Sto il mollo e massa fatto. Volta la carta che viene un matto. E sto matto magna il pan. Volta la carta che viene un gocan. Sti gocan se corre il trio. Volta la carta che l'è il finio. Abbiamo chiesto ai nostri amici di dirci cos'è per loro la poesia. È un gioco di parole. Raccontare con il cuore. Un modo diverso di vedere la realtà. Tanta musica. A proposito di musica. I grandi cantatori trasformano le loro poesie in canzoni. In azione. Con la loro mitica canzone sentiamo ora il sonola. Guarda il cielo non vedo altro colore. Sono grigio piombo che mi spagna il sole. L'unica certezza è gli occhi che io ho di te. Due fotografie e tutto ciò che rimane. Sul mio letto il vento le fa volare. La distanza che ci divide fa male anche a me. Se non vai via l'amore è qui. Sei un viaggio che non ha le meta né destinazione. Sei una terra di mezzo dove ho lasciato il mio cuore così. Sono solo anch'io come vivi tu. Cerco come te l'amore. Ora è tempo di salutare. Ciao! Andiamo a studiare! Dalla redazione del TG Quale Informa è tutto. Per noi piccoli giornalisti è un debutto! Ciao! Ciao mamma! Ciao! Grazie a tutti